E dobbiamo prendere un aereo, metaforicamente, perché dobbiamo raggiungere Veronica Tati a 40 minuti da Dublino, giusto? Sì. Benvenuta su Lettore Metropolitane. Ciao Veronica. Veronica è nota anche come Nica Books su Instagram, ma soprattutto è una grande esperta di librerie, di come impostare una libreria, tanto che adesso devo usare il passato? Sì, esatto, nel senso, poi ne parleremo. Poi ne parliamo, perché appunto recentemente è stata prima coinvolta in un'esperienza di lavoro all'estero, cosiddetta è abbastanza vaga nel merito, ma c'è stata una novità. Quindi, come solitamente noi facciamo giri per lo stivale, chiedendo e raccontando le librerie in Italia, a questo punto dobbiamo anche fare un salto di fuso orario, se non sbaglio, perché siamo un'ora indietro, giusto? Esatto, esatto. Raccontaci un po' come è stato questo trasferimento, mettiamola così. Tanto com'è arrivata l'opportunità e poi come stai vivendo questa esperienza, anche in rapporto a quella che è la tua competenza, diciamo, di libreria italiana. Assolutamente. Ok. Allora, ma diciamo che la storia parte nel 2017, che è l'anno in cui io ho iniziato a fare la libreria, ed è l'anno in cui io ho sentito anche la necessità di formarmi, non solo dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista teorico. E quindi ho iniziato sin da subito a frequentare i corsi della scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, perché non tutti lo sanno, però in Italia abbiamo due scuole essenzialmente per librai, e quella che ho frequentato io appunto è la scuola per librai Umberto e Elisabetta Mauri, e ogni anno io ho frequentato i loro corsi, cioè li ho frequentati proprio assiduamente, ogni anno anche se si ripetevano gli stessi corsi, io frequentavo perché volevo tenere mia giornata, volevo crescere proprio, avevo tra virgolette deciso che quella sarebbe stata la mia carriera, e per fare il mio lavoro volevo appunto formarmi sempre di più. Dopo quattro anni, mi sembra tre anni così che la frequentavo, loro hanno tirato fuori questa borsa lavoro, hanno inventato questa borsa lavoro in collaborazione con le librerie Waterstones, questo dovuto anche al fatto, diciamo per due ragioni essenzialmente, la borsa lavoro si chiama Nick Perren ed è un omaggio appunto all'editore Nick Perren che è scomparso nel 2016, però anche perché tra i vari relatori della scuola a lezione c'è sempre stato anche James Don't, che è il CEO delle librerie Waterstones e non solo, e che ha portato sempre a lezione l'esperienza delle librerie Waterstones, quindi ci ha spiegato un po', diciamo, ci spiegava un po' qual è la filosofia delle librerie Waterstones, e quindi in collaborazione con loro è nata questa borsa lavoro che dà l'opportunità a chi appunto frequenta il seminario di perfezionamento della scuola di poter ottenere questa borsa lavoro e passare un mese di lavoro in una libreria Waterstones a scelta, lo metto tra virgolette, poi vi spiegherò perché, e quindi eccomi qua. L'anno scorso la borsa lavoro l'ho ottenuta io, e quest'anno sono volata a Dublino a passare un mese in una libreria, la libreria è la Oges Figgis di Dublino, è la libreria più antica d'Irlanda e la terza libreria più antica del mondo. Wow. Accidente. Esatto, e fa parte del gruppo Waterstones, quindi è di stampo indipendente, ma fa parte del gruppo. E qual è questa filosofia del gruppo Waterstones? Cioè c'è una linea particolare, delle caratteristiche? Diciamo che io ho lavorato in tante catene italiane, e quella che si avvicina di più a... Esatto, questo tipo di libreria è la Ubic, perché appunto fai il libraio, ora non perché voglio mettere, ecco, di fare differenze fra i vari librai delle varie catene, eccetera, però Ubic è di stampo quasi indipendente, nel senso che essendo un franchising ogni libreria ha il suo titolare e quindi ognuna è diversa da quell'altra. E qui io ho ritrovato un po' quella cosa lì. Ora è vero che la libreria dove sto lavorando io è una libreria del gruppo Waterstones, ma è di stampo indipendente, quindi magari tante cose che io vedo in questa libreria non sono cose che si vedono solitamente nelle librerie Waterstones, però c'è molta libertà, cioè il libraio ha molta libertà, fa diciamo il libraio veramente, quindi è il libraio che sceglie cosa mettere sui tavoli, è il libraio che sceglie cosa mettere nelle vetrine, è il libraio che sceglie cosa consigliare al cliente, quindi mi sento di dire che sono una libraia, ecco. Ma diciamo l'ostacolo, ora io non so la tua preparazione linguistica quale sia, ma l'ostacolo più grande che hai trovato rispetto al dover consigliare libri in un'altra lingua o appunto in un altro paese? Allora, diciamo che io non ho problemi con la lingua inglese, parlo, leggo e scrivo senza problemi, anche perché sono laureata in lingue e letterature straniere, quindi non è stato quello l'ostacolo più grande, diciamo che a livello linguistico forse l'ostacolo più grosso è che io lavoro a Dublino e quindi qui si parla l'Irish English. Sì, conosco bene, è una cosa un po' diversa, diciamo. Chiunque abbia visto una serie di ambientate in Irlanda sa di cosa stiamo parlando. Diciamo che l'inglese e gli irlandesi parlano molto velocemente e tante volte borbottano le parole, quindi è proprio come se avessero continuamente, non lo so, una patata bollente in bocca, quindi è un po' difficile a volte capirli. E poi anche perché qui comunque invece l'irlandese, proprio l'irlandese, è una lingua viva. Cioè il gelico intendo. Esatto, esatto. Quindi come noi studiamo il latino, ma poi lo lasciamo all'interno degli ambienti scolastici, qua invece è tutto doppio. Cioè i cartelli di libreria sono in doppia lingua, i cartelli stradali sono in doppia lingua. Noi abbiamo degli scaffali di letteratura irlandese e ci sono dei clienti che lo parlano e quindi io a volte non, quando ti chiedono i titoli veramente in gaelico io non capisco. I miei colleghi invece l'hanno studiato a scuola e quindi loro capiscono senza problemi. Senti, altre differenze diciamo macroscopiche evidenti rispetto alle librerie italiane, al sistema diciamo delle librerie italiane? Forse la clientela, ecco i clienti sono molto più indipendenti in libreria. hanno molto meno, sentono molto meno la necessità di essere coccolati o comunque seguiti in libreria. Ora è libreria da me, la libreria è una libreria su quattro piani, quindi capite che è una libreria enorme e hanno necessità di essere indirizzati, quindi di essere accompagnati allo scaffale eccetera. Però solitamente sono molto indipendenti, scelgono da soli, non è che non vogliono, vogliono, ma secondo me non c'entra proprio il bisogno, sono molto, sì, proprio molto indipendenti. Esatto, sì. Non vogliono dichiare. clienti quando gli dici che devi ordinare il libro, escono e ti dicono che lo comprano lì. Lì. Online, diciamo, via. e quindi invece qua c'è molta pazienza, sia per quanto riguarda il libro appunto che deve essere ordinato, ma anche quando per esempio non troviamo un libro in libreria o il libro è in magazzino e lì la libreria è enorme, quindi il mio scendo in magazzino a controllare significa aspettarmi due o tre minuti buoni e magari poi non lo trovi nemmeno, sono molto pazienti e comunque molto, molto, ti ringraziano comunque per il tempo che hai impiegato per loro, sono molto riconoscenti del tuo lavoro lì, cioè riconoscono il tuo impegno e quindi questi, diciamo, sono aspetti, secondo me, proprio della cultura, ecco, delle persone del posto, la vita. Forse anche del rapporto con le librerie più che così. Sì. Sì, della cultura. Del lavorare sui libri. Sì, sì, ci sta, ci sta. Diciamo che mi dà l'idea che sia una cosa più lenta, ma lenta in un senso positivo. Senti, invece per quanto riguarda, scusa, sto monopolizzando, ma mi vengo a dire. Per quanto riguarda gli eventi, le presentazioni, come funziona? Noi sappiamo che in Germania addirittura le presentazioni sono anche a pagamento. A volte sì, a volte. Succede, allora, da me no, nel senso che da me sono tutte gratuite, almeno io lavoro qui da settembre, non ho visto mai presentazioni a pagamento e finché c'è posto può entrare gente e anzi ci sono, noi offriamo vino e acqua da bere durante la presentazione e noi ne abbiamo veramente tante, veramente, veramente tante. Un po' perché la libreria è prestigiosa e quindi ospita tantissimi autori continuamente, per esempio ieri c'era Peter James a autografare i libri, abbiamo avuto Roddy Doyle, continuamente quindi autori importanti, anche solo che passano di libreria ad autografare le copie che abbiamo. però il discorso delle presentazioni a pagamento è una cosa che ho visto tantissimo, anche io vado spesso a Londra, ogni 3-4 mesi solitamente vado perché è una città che amo e lì ho visto tantissime presentazioni a pagamento, ma anche festival veri e propri, nel senso magari giornate intere dove dalla mattina alla sera ci sono presentazioni e tu paghi una somma per entrare e con quella somma ti paghi la presentazione più la degustazione, quindi non è una cosa strana da vedere, ecco, ma le persone lo fanno. Lo fanno l'entieri. Sì, sì, sì. Senti, scusami, un'altra cosa, per quanto riguarda invece i libri che vengono presentati, c'è una politica rispetto al grande, è vero che è una libreria importante, quindi ci saranno comunque dei nomi grandi, ma c'è una predilezione per i nomi grandi oppure c'è spazio anche per gli emergenti, la virgolette? Sì, ci sono anche autori, per esempio, locali. Questa è forse, cioè la cultura irlandese o comunque di irlandese in generale è, sono molto attaccati, molto attaccati alla loro letteratura. Noi qua abbiamo uno spazio enorme, libreria dedicato solo ed esclusivamente all'Irlanda con la letteratura irlandese, la saggistica irlandese, la poesia irlandese, il trasporto irlandese, ci sono tantissimi libri sui trasporti, il teatro, sono molto attaccati, quindi ci sono tantissime presentazioni di nomi locali che magari quando vengono, quando succede in Italia che inviti l'autore locale, ti aspetti pochissime persone, qua invece ci sono proprio ondate di clienti perché sono molto orgogliosi, sono fieri, esatto, della loro letteratura e dei loro autori. A questo punto l'aggancio è abbastanza facile. Direi di fare una piccola pausa musicale perché abbiamo già sentito la prima scelta musicale di Veronica e ne sentiamo la seconda ma subito dopo ritorniamo con un caso studio molto speciale. E molto irlandese. Ma ritorniamo subito. Stavamo parlando di Irlanda, di autori e autrici irlandesi. C'è un autrice irlandese che per chi sa che è irlandese, ma penso che ormai sia un discorso risaputo forse anche per quelli che sono un po' meno lettori e lettrici forti, è Sally Rooney, una delle autrici più lette negli ultimi anni in assoluto, di cui c'è stato anche un adattamento per ora? Due. Già due adattamenti. Io devo confessare, proprio lo confesso, a quale aperto non l'ho ancora mai letta Sally Rooney perché non ci ho avuto modo, tempo, però è una cosa che mi riprometto di fare. Io amo molto l'Irlanda quindi proprio mi piacerebbe tanto avere tempo di fare anche questo. Matematicamente tutti noi hanno letto un libro di Sally Rooney perché Veronica li ha letti tutti. Sto leggendo l'ultimo. Allora raccontaci un po' questo fenomeno Sally Rooney, dico fenomeno, spieghiamo anche un attimo agli ascoltatori e agli ascoltatrici perché in effetti sta succedendo un po' quello che forse succedeva, è successo con Harry Potter, mi viene da dire forse all'epoca, cioè che le persone stanno leggendo anche in Italia il libro in inglese, l'ultimo uscito, l'ultimo romanzo perché non è stato, ovviamente non è arrivato in italiano ancora, arriverà ma non è arrivato e quindi le persone sono talmente coinvolte e hanno un'aspettativa talmente forte che lo stanno leggendo in inglese e lo finiscono, cioè finiscono le copie e quindi continuano a ordinare queste copie. Non so quanto sarà contento l'editore poi italiano perché stanno fregando le copie da un certo punto di vista, però poi magari se lo ricomprano pure in italiano. Esatto. L'editore italiano è un nome piuttosto noto, è Enaudi, sta preparando l'uscita a ridosso delle feste di Natale, ma appunto noi possiamo chiedere direttamente a Veronica come hanno preparato il lancio, cosa hanno preparato fisicamente, come si è svolta questa notte, grande notte e... Anche com'è l'apporto degli irlandesi con Sally Rooney. Questo è un argomento di cui potremmo parlare giorni interi. Abbiamo già fatto la pausa, quindi vai, prenditi tutto. Ma gli irlandesi sono molto fieri di Sally Rooney, molto fieri, appunto come dicevo prima, in generale sono fieri della loro letteratura, ma Sally Rooney è veramente un grosso fenomeno, un grosso, grosso fenomeno. Lei è venuta anche in libreria il venerdì 20 settembre, era lì a guardare tra gli scaffali, però lei non ama essere fermata, non ama chi gli chiede autografi, non gli ama le foto, è proprio una persona completamente riservata, molto riservata. Infatti è uscita una bellissima intervista sul sull'Irish Time, sulla settimana in cui sono arrivata, un'intervista di 15-16 pagine, eccetera, dove lei diceva anche che quando fa le presentazioni deve avere due uscite, una a destra e una a sinistra, perché nel caso in cui a un certo punto magari si sente un po' sopraffatta così, deve avere dei punti per scappare. Forse è un po' caltotobica pure, poverina, non è detto, o augurafobica, ci sta, non è che uno fa la scrittrice per forza per essere travolto dalla gente. Diciamo che lei ecco, una delle cose che le dispiace non aver fatto è non aver scritto sotto pseudonimo, per esempio parlava della Ferrante, diceva che tornasse indietro eventualmente lo farebbe, più che altro per proteggere la sua famiglia, la sua caiva, sì, perché per lei è importante quello. Ecco, diciamo che sono stati giorni frenetici quelli prima dell'uscita di Sally Rooney, perché c'è stata veramente, ma anche prima che io arrivassi le persone hanno preordinato le copie. Poi qua in Waterstones è uscita anche l'edizione con il capitolo in più, proprio esclusiva Waterstones, quindi le persone erano impazzite anche per questa cosa qua. E in più chi acquistava il libro aveva in omaggio la tote bag, o la spilletta, o la maglietta, oppure le cover del libro alternative, quindi c'era proprio, c'è stato proprio un rito attorno all'uscita di questo libro. Noi abbiamo aperto un'ora prima, il giorno dell'uscita, e io sono arrivata appunto prima perché volevo vedere cosa, come sarebbe stato recepito, recepita l'uscita, e c'era la coda fuori dalla libreria. Io era una cosa che non vedevo, erano le otto di mattina. C'era la coda fuori dalla libreria, c'era la televisione, c'era che intervistava i clienti, e io una cosa del genere penso appunto di non averla vista dai tempi di Harry Potter. Penso appunto sì di non aver mai più visto niente di simile, tenendo di conto che comunque la sera prima le copie erano, cioè giorni prima già le copie giravano perché agli eventi che lei aveva fatto ne aveva fatti due, uno a Londra la sera prima dell'uscita e uno qua a Dublino qualche giorno prima, le copie già erano uscite, però le persone aspettavano l'edizione anche col capitolo in più. Quindi tante hanno anche comprato il libro durante le serate per farselo fotografare e poi sono tornati a ricomprarlo doppio con il capitolo esclusivo, sì, o anche solo per ricevere il gadget. Però in generale qui a Dublino è stata una festa, cioè anche le altre librerie, c'era chi se compri il libro ti diamo il caffè gratis con la tazzina brandizzata, quindi tutto la copertina del libro, sì, è stata una festa. Ma questa cosa del capitolo in più devo dire è molto interessante perché nasce quindi da una collaborazione con la catena di librerie. Sì, io penso che sia proprio ora, nello specifico non me ne intendo ecco di quando succedono queste cose qua, com'è che funziona, però è un capitolo esclusivo appunto per Waterstones, quindi per le librerie Waterstones, sì. C'è una cosa che in Italia sarebbe complicata, cioè nel senso, voglio dire, vabbè, però poi bisognerebbe chiedere al, forse a Einaudi stesso se ne sa qualcosa su come è funzionata questa questione, cioè sarebbe come un capitolo in più solo per le feltrinelli. Sì, esatto, sicuramente metterebbe in difficoltà. Capito, c'è un problema di concorre, boh, chissà, vabbè. Sicuramente attira molto di più e concentra di un sconto per… No, ah, ci dicevi questa cosa degli sconti già che anche fuori onda e questo è interessante che non ci sono, non c'è la pratica degli sconti. No, le case editrici non fanno gli sconti. Noi abbiamo una stanza dedicata ai Reminders, quindi a tutte quelle cose con il 60-70% di sconto, eccetera, però in linea generale l'unica promo, ora in libreria da me no, però l'unica promo che io ho visto a giro nelle altre librerie è quella, magari c'è un tavolo di libri selezionati, compri il primo il secondo a metà prezzo. Però in linea generale i sconti non ci sono, le persone non li chiedono, anzi a volte magari il libro è un po' rovinato, siamo noi a dire, è rovinato che faccio lo sconto, perché altrimenti non… cioè non è proprio una cosa che… alla quale pensano, anzi spendono tantissimo i libri, tanto, veramente, veramente tanto. Io faccio scontrini che hanno una media di prezzo, che non hanno niente a che vedere con quella italiana, è anche vero che i libri costano super giù come l'Italia, perché a volte si dice, no, no, in Inghilterra, in Irlanda o comunque nei paesi anglofoli costano meno, nel senso io qua li vedo anche con i prezzi in euro, perché qua in Irlanda c'è l'euro, e i prezzi dei tascabili super giù sono quelli, cioè 10-11 euro, è vero che in Italia anche 15-16 euro per un tascabile ci si spendono, però poi abbiamo anche quelli in copertina rigida che hanno i prezzi che sono simili a quelli italiani, anzi a volte costano molto di più, cioè qui anche le copertine rigide arrivano anche ai 27-28 euro, solo che spesso e volentieri insieme alla copertina rigida esce quella che qui viene chiamata la Trade Edition, che sarebbe la copertina morbida della copertina rigida, quindi lo stesso formato grosso. Per viaggiare? Una cosa simile sì, poi per aspettare la paperback, quindi l'economica c'è del tempo, però spesso e volentieri la copertina rigida e la Trade escono insieme e quindi le persone possono anche comprare un'edizione più simile a quella della copertina rigida che non sia quella economica, però che costa meno. Questo è un passaggio ulteriore che diciamo ti puoi permettere in un paese dove la gente ha voglia di spendere per i libri, perché comunque è una cosa in più comunque che gli stai dando perché loro possono evidentemente, no ma poi soprattutto questa cosa degli sconti che a parte che non li chiedono, ma più che altro che le librerie non sentono l'esigenza di farli, cioè qua c'è stato tutto un dibattito grosso sul fatto che le librerie avrebbero voluto avere più possibilità di fare sconti, ma perché è proprio una situazione di richiesta completamente diversa. Sì, diciamo che in Italia quando c'è stata la revisione della legge Levi, quella del 5%, che tra le altre cose è entrata in vigore durante il Covid, quindi è stato tra virgolette un po' un controsenso, nel senso che già noi librerie eravamo in difficoltà, è entrata in vigore la legge che era una legge che doveva aiutare le librerie in quel momento, che in realtà erano, la pagina di parte erano chiuse, quindi è ricominciato tutto poi piano piano, però le persone non capivano l'importanza di questo abbassamento dello sconto per le librerie italiane, perché quello è proprio stato fatto affinché ci fosse meno concorrenza, nel senso che se una libreria riesce a fare il 15% di sconto sulle novità e invece viene portato al 5%, è ovvio che se in una libreria di catena io ho al massimo il 5% di sconto e in un indipendente io quel 5% di sconto non ce l'ho, ma comunque risparmierei solo ed esclusivamente quei 30, 40, 50 centesimi, non mi fa differenza comprare una libreria di catena in una libreria indipendente o online, perché anche online, l'online si è dovuto adeguare a questa legge e i lettori erano molto arrabbiati perché non capivano l'importanza di queste cose, quindi a me fa tantissimo effetto vedere che invece qui nemmeno gli sconti vengono chiesti, cioè c'è proprio una mentalità completamente diversa per quanto riguarda l'approccio a letteratura. È anche vero che questo è uno dei paesi dove si legge di più in Europa, quindi è normale anche che le realtà siano diverse, però allo stesso momento da italiana che si è trasferita qua, la differenza mi salta all'occhio subito, è possibile non notarla, i miei colleghi magari non ci fanno caso, io sì. Ti vorrei fare un'ultima domanda uscendo un pochino dalla libreria, tu appunto oltre ad aver studiato all'università lingue, ma soprattutto sei arrivata a lavorare all'estero, a lavorare in una libreria a Dublino con grande preparazione, com'è la promozione dei libri in Irlanda o comunque fuori dall'Italia? Perché noi abbiamo, noi in Italia abbiamo tre trasmissioni in televisione, tendenzialmente una, Marzullo, in fondo al palinsesto, alle ore piccole, poi ci saranno grandi cose. No, poi ci saranno gli scrittori o le scrittrici che hanno anche un ruolo, diciamo, di spettacolo, che vanno nelle trasmissioni di spettacolo, però in effetti la... e poi c'è il mondo di TikTok forse adesso, che è quello che funziona un po' di più. Sì, appunto, mettiamo il calderone social tutto insieme, però appunto è tutto di iniziativa o dell'editore o del creator o del valoroso e coraggioso o coraggiosa autore-autrice. Lì, invece, dalle tue parole sento una preparazione culturale diversa proprio. Sì, quello sicuramente. Ora, non voglio, ecco, vedere solo lati positivi qui e solo lati negativi in Italia, ovviamente, perché io sono anche qui da poco e sicuramente non ho visto tutto. Però il... cioè, mi dà l'idea che sia una cosa molto più naturale, cioè che venga in maniera molto meno preparata. Mi dà l'idea che sia una necessità, cioè che sia normale farlo, cioè la promozione del libro avviene tramite l'autore, l'editore, che sfrutta tutti i suoi canali a disposizione, quindi ovviamente anche la parte social e le librerie sono una parte fondamentale della catena, diciamo, che lega l'autore con il lettore. Ecco, forse le librerie qua hanno un ruolo... giocano un ruolo fondamentale in tutto questo. Forse in Italia non è così, nel senso che la libreria viene vista come uno dei tanti canali dove si può acquistare il libro. Non sempre il canale principale, anche perché la maggior parte degli autori che esce con un libro, anche autori molto famosi, non indirizza quasi mai i suoi lettori all'acquisto di libreria, ma li indirizza sull'acquisto online. Questo perché l'editore con i pre-order è, diciamo, sa quante copie già una stima, ecco, di quello che deve essere poi la prima fase di stampa. Qua invece mi dà l'idea che sia una cosa che succeda, ecco, che è un po' all'incontrario. Come se le librerie fossero il canale principale e la richiesta dei lettori in libreria sia quello che poi dà anche una risposta all'editore su come comportarsi. Però ovviamente, ripeto, queste sono differenze che mi sono saltate all'occhio in un mese e mezzo di permanenza qua, quindi c'è ancora tanto da vedere e magari tanti aspetti negativi da scoprire. Però sicuramente con un primo approccio quello che mi viene da dire è proprio che le librerie sono una parte fondamentale della cultura, fanno proprio parte del… sono l'aspetto fondamentale, alcuni degli aspetti fondamentali di quello che collega l'autore con il lettore. Ok. Beh, a questo punto direi che per scoprire altri aspetti positivi e negativi ci riaggiorniamo. Tu quanto resti là? Hai deciso che resti là? Al momento sei mesi. Ok. Quindi hai tempo anche per studiare un po' la situazione. E noi, visto che io ho una grandissima curiosità di chiederti della libreria di com'è fatta, di com'è organizzata, io a questo punto in sei mesi abbiamo tutto il tempo di prendere di un viaggio. Ma magari io ci andrei domani. No, perché appunto gli spazi dove, come fare le presentazioni e come… Beh, se c'ha quattro piani direi che lo spazio ce l'hanno, insomma. Sì, c'è uno spazio dedicato alle presentazioni, però diciamo che la libreria di spazio ne ha tanto. Esatto. Grazie mille Veronica, Veronica Tati. Grazie a voi. Seguitela su Instagram, Nika Books e TikTok. Sì. Io, come se fosse un mondo, quella roba. Sì, ma io TikTok non l'utilizzo tantissimo, quindi è proprio Instagram per me, sì sì. Grazie mille. Grazie a voi. Speriamo di venirti a trovare. Cosa ti portiamo? Vi aspetto. Mi portate, non lo so, ma una cosa da mangiare. Un po' di pesto. Un po' di pesto. Va bene. È facile quello che può fare. Compatto. Grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Ci sentiamo la tua terza scelta musicale. Ok, va bene. Grazie a voi.